amici di marcos box benvenuti in questa quinta puntata della cobit craft vediamo questa puntata di riuscire ad abbellire un po la casa e nel caso di riuscire andare a minare per prendere un po di metallo e farci una piccola armatura altrimenti siamo messi molto male più soltanto con gli scaffoni che abbiamo trovato l'altro giorno pescando e basta oddio l'idea mia di questa puntata era anche quella di riuscire a di riuscire a inventare oggi maledizione ma ogni volta mi devo far male scendente dicevo lo scopo di questa puntata è quello di riuscire il scopo iniziale di questa puntata era quello di riuscire a costruire una barchetta per andarci bene qui e però non riesco a trovare uno scopo sul mare ho iniziato a camminare e non me ne frega un po prendo il giusto tutto il mio stabile potrebbe essere anche la soluzione di migliore magari troviamo qualche pezzo di armatura pescando una botta di cura oh non c'è niente non c'è niente il punto sfigato ritentiamo andiamo andiamo l'ultimo tentativo giustamente se uno va a pescare che trova trova pesci andiamo un attimo in questa direzione salve signora mucca vediamo di capire se c'è uno scopo sul mare qua così ci organizziamo per la partenza e l'ultimo tentativo e abbiamo qua andate faccio un po' di passaggio in grattis allora quello va da quella parte intanto ci troviamo pure di guardare in varia parte per me la faccio la solita fila andiamo a esplorare signori pecore buongiorno buongiorno niente 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 vabbè allora facciamo la pazzia perché onestamente mi sono scorciato di stare in questa zona andiamo a casina prendiamo tutto quello che ci serve e partiamo l'avventura dai che mi sono perso dai che da quella parte il fumo non si vede ok quindi quella il fagò che ho fatto prima non serve assolutamente a mezzo il fuoco da tanto ma già e la fa, la fa non ricordo più dove sta ah mamma mia iniziamo ad arrivare su questa terra così più o meno dovremmo essere in direzione vediamo che di prima tiè vieni pure tu chi è chi è chi è calzati magari qua sto pezzo le mucche no le mucche fa mumu guardate fa ahhh qualcuno è questo senti che c'è il mal di pace era questa la direzione di casa ditemi di sì ditemi di sì di sì sì è questo allora andiamo a prendere tutto questo cazzo di valore è inutile è inutile io pensavo potesse rivelarsi utile invece allora dai cambio di piano facciamo così andiamo a casina prendiamo quello che ci può servire che ci può servire la barchetta questo qua lo lasciamo qua questi li lasciamo qua gli occhi di ragno se cosa qua non ci servono allora questo ci può servire legno ci serve ehh sabbia ce la portiamo un po' cactus non ci serve queste ce le portiamo e carbone per forza la sage ce la portiamo questo ce la portiamo questi non ci servono a niente questo ci serve ci vuoletto non ci serve questo ci serve ehh ehh i picconi ce li abbiamo la rana se ci vogliamo fare qualche altoretto ehh la spada mi sembra che ci serve una spada diciamo così innanzitutto prendiamo altro un po' di carbone qua e ci facciamo il pescetto rosto uno ce lo mangiamo subito questo anzi no ci mangiamo questo qua questo ce lo facciamo questo piccone che è mezz'orto lo lasciamo qua questa zappa mezz'orto lo lasciamo qua ehh questa spada mezz'orto lo lasciamo qua ehh pietrisco basta tanto questo lo troviamo in abbondanza il granito diciamo qua a di terra questo che è la caccia carboni carbone sedice questo lo mettiamo qua questo lo mettiamo qua questo ce lo mangiamo adesso da terra inutile che ce la portiamo perchè tanto per andare ovunque questo lo devo mettere nella scorta pietrisco abbiamo detto che possiamo anche bastano due due tifosi queste ce le portiamo perchè non so quando ritroverò poi altra roba del genere ehh il letto il letto ce ne facciamo un altro ci facciamo un altro letto ci facciamo un bianco e lo mettiamo da parte poi ci facciamo un bel spada la bella spada quasi quasi ce la faccio pure di terra no vabbè c'è una spada ehm il piccone no basta i picconi ce li abbiamo basta così magari aspettiamo qualche cosa qualche cosa di grano qua così ci prepariamo un panino per la partenza domani mattina ce ne abbiamo da qua ehm ehm uno scudo ce l'ho l'acciarino mi può servire l'acciarino no adesso adesso faccio anche il getto giallo va un dente di luna mettiamolo qua l'ultima notte è qua dentro e si parte l'avventura ciao casina bella tempo di andare a esplorare nuovi mondi per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima se li avete idea quante cacchio si spuntate queste zucche? la giarabatoshka adesso andiamo per farci le decorazioni ehm uno due tre e quattro andiamo in questa direzione andiamo in questa direzione ehm magari troviamo qualcosa di bello qua c'è acqua ma non vado a nessuna parte il vi... l'agggio cioè io ho avuto il villaggio il vi... ma perchè non ci sono mai venuto a questa parte? madonna mia che nervoso uffa perchè? perchè? abbiamo trovato un villaggio che potremmo anche esplorare subito e saccheggiare vado che cazzo si entra questa parte? ma che si è andata su qua qua? che cazzo? è una tomba che è? una piranga è zigo qua una tomba tè quanto è bello non c'è niente? non ci sono tesori cose del genere non c'è niente proprio cazzo ok la smetto ma non c'erano dei villagers prima? non l'avete visto anche voi? o erano impressioni? me li so sognati mi sono sognato dei villagers cerco di prima porca di poichè ma perchè? non ci sono ragni adesso ah ecco il villaggio per me li ho sognati i villagers buongiorno gente vengo in pace con la spalla in mano perchè si sa no salve signore vengo da qui beh ti dice avete i ghettini verdi salve signore salve signore buongiorno possiamo fare uno scambio da pari io le do questo e mi prendo questo le lascio un po' di urlano e mi prendo un po' di panini non scambio da pari non scambio da pari questo mettiamo qua questo è un po' di nuova lo mettiamo qua guardi ci sono anche qui in attento qua non c'è niente più salve signore salve signore non c'è niente più qua non ha niente mi pare che sono belle tutte le casine con i litri verdi e azuri un nuovo stile questo è quello che abbiamo saccheggiato prima questo l'abbiamo già saccheggiato eh si c'ha ragione qui una volta era tutta campagna vi siete sistemati bene in questa giornata che cos'è? go del sur play the sun salve che fa è arrivato di capi? che c'è? che c'è? che c'è? salve salve eh signore è normale che sta così? ok ok che c'è? che c'è? che c'è? madonna l'ingoroneta madonna dell'ingoroneta di foggia patatiferro bardatura d'oro così si trova un cavallo Salve, non sto rubando, sto mettendo un prestito, un po' di roba, poi l'ho cambiata e ho messo Posso fare la carta, posso fare la cartina, chi è che c'è un banco da avere in casa? Sono una brutta persona, sto rubando in una maniera spudorata in tutte le case Vediamo che c'è un banco Adesso io non vedo il banco di cartus Salve Allora, se io prendo questo, non si faccio niente, come si fa la carta? Che brutto Eeeh 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 Butto questo, dai Prendo questo Vediamo che faccio la cartina, no? E no, la cartina per fumare, non ci siamo capiti Salve il bambino, dove cacchio era? Ah Eeeh 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 Questo è bello, questo Adesso Adesso, questo no Eeeh 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 Sono abbiati perché sono entrato nel villaggio e io ho rubato tutta la roba Eeeh Vendo in patria Eeeh Eeeh Sto anche camminando sui vostri simboli sacri Eeeh 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 Che cacchi ha da fare? Ah, un gatto Ah, un gatto Ah, un gatto Ah, un gatto Scusi, me la frego io, stacasa Se è soltanto sapessi uscire a questo gatto FARMI MALE Poi non dite che sono una bustola stona Io ripianto, quindi Ah Ah Allora Sì, eeeh Guardi Guardate che Chiudete che ho fatto perché c'è gente che entra Prima ho visto uno che è entrato, si è stregato un sacco di cose Dove cacchio i ragos, madonna, non mi ricordo più No, qua non era Qua non era Qua di certo no Si sente il vento? Si sente il vento Qua non era E se sta E se sta a fare pure notte No, qua non è No, qua non è No, qua non è No, qua non è Porca dica quella torica Mi sono stata frega No, qua non è No, qua non è No, qua non è Ma non è No, qua non è No, qua non è Cosa sta? C'è una cittadina su uno per uno? Cosa? Cosa sta? No, parte di quella porta. Cosa sta? Signore, va bene. No, perché se si è pagato la posso aiutare, cioè, con un po' di maniera forte. Oh, eccolo qua. Ci facciamo la mappa. Ah, Dio, la salva la bussola. Ah, mannaggia la patroschka. Vabbè, da. Ehm, continuiamo a esplorarlo. Ah. In che direzione andiamo? Un portale del nether. Eh, c'è anche una cassa. Eh, la matroschka. Ehm. Allora. Adesso, dai. Ehm, perché le pepite, mi sembra che si possono fondere poi un'altra volta, giusto? Allora. Banco da lavoro. La carta, per adesso buttiamo. Prendiamo. Eh, la spada d'oro. Quattro. Un e si. Un e si. No, meglio la mia. Ehm. Che facciamo con questo? Allora, innanzitutto ci facciamo il elmo. Elmo è qui. E ci facciamo il elmo. Poi c'è il mio per i pantaloni. Che ci facciamo con questo? E 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 ci facciamo con questo? 3, 2, 5 ce la facciamo fare i pantagoni no che possiamo fare con qui le pepite? pepite pepite non possiamo fare niente con le pepite? ce le ho allora facciamo così recuperiamo sgocchi ok vedo che c'è manza c'è manza adesso lo togliamo ehhh piccone c'è manza c'è manza come si chiama sta cosa? che carina netherrack blocco di magma oh wow wow grazie c'è manzino rimane ma lei posso dire questo è il bambino chi lo sa dobbiamo arrivare al massimo a 5 da 4 ok, poi se no ho più fermato ok, eeeh e niente andiamoci qualche altro blocco di marco che dava qua oh porca eh vabbè andiamo da cambiamo caso andiamo a esplorare pom 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 non so se scatta un cavallo come se domesticavano i cavalli non ricordo più mamma mia allora se mi fico nella foresta sono morto però per andare dove devo andare devo andare da qua quindi non può essere la foresta per sempre giusto? o che cosa? com'è? così quasi la zucca la putta direi se riusciamo a trovare un posto per accamparci per la notte entro 5 minuti così terminiamo anche questa puntata che è stata bella fottosa l'abbiamo rubata abbastanza abbiamo fatto tante belle cose siamo fatti un'armatura come si deve già stavo sfruttando acqua perché volevo prendere volevo prendere il mare ah si iniziamo questa puntata giro pagando cosa parca è bella sta zona inspira alberi robusti funghi 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 quindi c'è anche cibo io direi che possiamo anche trovare un posto tranquillo e prendere casa qui come si sta in parca non mi vado più no 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 se no chi c'ha la sassa c'è anche una bella cava qua che si può iniziare azzo cazzo di buddha mica c'è del metallo vabbè lo esploreremo nella prossima puntata bene direi che possiamo fare una bella lunga vita e prosperità a tutti quanti ci vediamo con il prossimo episodio della coppa di caffè ciao ciao ciao